Se fai così pochi chilometri che riesci a far invecchiare anche le gomme 4 stagioni prima di consumarle, prima di spendere molto per cambiarle, per affrontare al meglio l'inverno, guarda quanto puoi diminuire lo spazio per fermarti, con gomme di 7 anni, applicando Black Traction anche solo alle gomme anteriori. A 70 km orari sono stati necessari 14,75 metri per fermare una macchina con gomme 4 stagioni vecchie 7 anni. Adesso procedo all'applicazione di Black Traction alle sole gomme anteriori, perché quando si frena tutto il peso della macchina viene caricato sulle gomme anteriori, che sono le più importanti per diminuire lo spazio di frenata. E poi ripeto la prova di frenata, sempre a 70 km orari. Con questa prova di confronto di frenata, ti ho dimostrato che, applicando Black Traction anche solo alle gomme anteriori, 4 stagioni vecchie 7 anni della tua auto, moto o camper, puoi rinnovare, aumentare e mantenere l'aderenza per 4-6 mesi con una sola applicazione, che ad una velocità di 70 km orari, è una differenza di 4 metri in meno per fermarti. Metri in meno che possono essere determinanti per evitare un incidente o diminuire la violenza di un possibile impatto, per migliorare il controllo e la tua sicurezza stradale. Un notevole e sensibile miglioramento dell'aderenza, dimostrato con prove di confronto di frenata, da permettere ad una gomma a 4 stagioni di 7 anni di fermare un'auto in minore spazio di una gomma a 4 stagioni nuova. Ciao Marco, come ti dicevo, stamattina sono andato a provare le gomme, gomme vecchie del 2014, col trattamento, si vede perfettamente che la gomma è diventata più morbida, su tutti i tasselli, provata sulle strade che conosco, e devo dire che, come immaginavo, il prodotto è veramente veramente valido, nonostante queste gomme qua siano del 2014. Prima di spendere centinaia di euro per cambiare delle gomme solo perché sono invecchiate, prova ad applicare Black Traction o ATT, per rinnovare e mantenere sempre ottimale l'aderenza delle tue gomme e la tua sicurezza stradale. Potrai rimanere soddisfatto, come lo sono sempre più clienti Black Traction, e rimandare la spesa alla prossima stagione o a quando saranno consumate. Sono prodotti italiani e brevettati, con caratteristiche uniche che non puoi trovare in nessun altro prodotto o sistema concorrente.